Per quanto riguarda il discorso di Zeman, alcuni dei titoli giornali sono stati che Viali dà ragione a Zeman, io a Zeman non ho mai dato ragione, Zeman l'ho querelato qualche anno fa e ribadisco che le sue dichiarazioni erano assolutamente fuori luogo, ha citato nomi di persone, di società e credo che quello, quel modo di portare avanti la sua denuncia o comunque quello che vuole essere il suo messaggio sia stato un modo da terrorista perché secondo me non è quello il modo in cui uno deve lanciare certi messaggi o certe accuse. Credo che la federazione se non vogliono fare la figura dei buffoni lo devono squalificare per un anno almeno perché uno, come ripeto, è un terrorista che sta cercando di destabilizzare l'ambiente e per me gente di questo genere non merita di far parte di questo mondo. Io non ho dato ragione a Zeman però ho detto che come effetto temporale delle sue dichiarazioni si è scoperto che qualcosa non andava. Si è scoperto che forse si faceva troppo uso di medicinali, allora chi faceva troppo uso di medicinali? Forse io da professionista che stava male quando non potevo andare a fare una partita o saltavo un allenamento forse avrei dovuto dire vabbè sto male, c'è un problema alla caviglia, vado una settimana in montagna eccetera e invece magari di chiedere un voltaren per giocare. Allora si poteva dire forse io ho sbagliato, forse, perché non è nemmeno detto quello, ma non è detto che nel mondo del calcio. Insomma lei lo riferisce al mondo del calcio. Ma io, ma sì, ma perché nella mia posizione immagino che siano stati altri. A chi si riferisce? Ma ha detto? Era una supposizione. No, ho fatto una domanda, non risponde lei, risponde il testimone. Chi sono ma lei dice, intende di voi i nomi o i cognomi? Sì, sì, chi sono, chi sono? Non me lo ricordo chi sono, ma sono colleghi che giocavano alla Sampdoria, nazionale, voglio dire. Allora, io non è che l'ho fatta di tornare, ci mancherebbe per dire che non deve rilasciare interviste. No, ma per me sta perché io... Lei le rilascia, ne rilascia quante ne vuole il suo diritto. È stato detto, Zeman è stato utile, ma non lo perdono, Zeman aveva ragione sul doping, Guariniello ce l'ha con la Juve. Questi sono stati i titoli dei giornali che sono conseguiti alla sua intervista. Il problema invece che le dico io è che lei ha fatto delle dichiarazioni, perché le ha fatte e le ho sentite, diverse da quelle che aveva fatto nel processo. Ma del tipo, scusi... Per esempio, io sarei contento di sapere che cos'è il doping consapevole e che cos'è il doping inconsapevole. A me non l'ha mai detto. Ma forse perché nessuno me l'ha mai chiesto, comunque credo che sia anche abbastanza semplice da capire dal mio punto di vista. Il doping consapevole è quando qualcuno prende qualcosa e si doppa perché vuole migliorare la propria prestazione. Perché lo sa ed è d'accordo. Oppure quando glielo danno e lui manco lo sa. Oppure prende qualcosa senza sapere, ma non perché qualcuno glielo dà. E questa è la definizione. Però lei ha detto che nel calcio esiste il doping consapevole e quello inconsapevole. E allora il doping consapevole... Il problema è lì. Questa è la definizione. Consapevole ci sarei arrivata anche da su. Eh, glielo garantisco. Il problema però è che lei dice che nel calcio... Tant'è vero che è giusto, dice lei, che il giocatore paghi anche quando è inconsapevole. Perché in fondo con quello che guadagna... Quindi si riferisce al mondo del calcio. Allora io le chiedo, da che cosa le risulta tutto questo? Viaglio. Me lo dice? E' certo che glielo dico, dal fatto che alcuni giocatori che sono stati trovati positivi a controllo di doping hanno dimostrato che hanno assunto sostanze senza esserne consapevoli ed altri probabilmente erano consapevoli. E questo cosa c'entra, scusi? Però non... C'è il doping che si fa consapevolmente e quello che si fa inconsapevolmente. Però anche nel secondo caso, se capita, se ti capita, devi essere pronto a pagare perché bisogna liberarsi di questo problema. Queste sono le sue testuali parole al riguardo. Certo. E che cosa vuol dire? Allora, che bisogna liberarsi di questo problema, vuol dire che se un problema c'è, bisogna liberarsi. Che vuol dire bisogna liberarsi? Bisogna liberarsi di questo problema, bisogna cercare di far sì che questo non succeda più. Se uno si dopa... Liberarsi nel senso di eliminare il problema. Eliminare il problema. Eh, certo. Per quanto riguarda il doping inconsapevole e quello inconsapevole, voglio dire se... Io voglio sapere a lei da che cosa risulta che nel calcio ci siano questi due tipi di doping. Dal fatto che legge i giornali. E c'è lei dal fatto che quello che ha preso dai giornali nel mondo del calcio lo riferisce come propria in un'intervista a Radio Radio. Mi faccia capire. Cioè avrei potuto rilasciarla pure io quell'intervista. Grazie a tutti.